Sono la guida per le ragazze milanesi. Prima domanda, stiamo andando a Boboli. Che cos'è Boboli? Sono dei giardini dove la gente va a... A cuccare, no. A cuccare, no. A fare forza. Ok, bene. Secondo te? Caro? A studiare. A prendere il sole. Ah, anche a fumarsi le canne, immagino. Anche. Ma cosa... Ma le due... Dove siamo? Al giardino di Boboli. Brave! Brave! Caro, dov'è che andiamo ora? Alla limonaia. Cos'è la limonaia? Cos'è? La limonaia è... Il classico punto in cui le coppie vanno a... Già la brisco. Potete ripetere cosa avevi detto mentre stavate salendo? Cavalchiamo il mio. Ossetica! Non so che girla. Ha un telecomando in mano. Non è meglio per gli altri. Sta cambiando canale. Metti in realtà io. Salice è piangente! Hai fatto un casino. Guarda! Che bella foglia! Andatevele eretiche milanesi! Fuori! Ma non si sente? Dai! Qual è tu anche se è pirla? C'è un biscuit, non so pirla! Si va! Si va! Si va! Si va! Vabbè allora se già l'abbiamo scoperto che le milanesi sono un po' porche. Gli occhi sono così perché mattina presto non mi drogo. Ma un commento alle milanesi? Io mi trasferisco in Toscana. Anch'io! Tiretze vince! Vabbè adesso! Calma! Tiretze! Tiretze! La donna che è? Indocopio! Se tanto me dà tanto, godo e me ne vanto. Ma è che? Bravissimi i milanesi, bravi, sicuramente bella Milano. Firenze e Milano. Milano insieme. Tava pallido passare amici miei, lo stavano per girare. Grazie a tutti!